Ciao a tutti, vi comunico con molto piacere che sarò candidato alle prossime elezioni il 12 e il 13 febbraio per il Consiglio regionale della Lombardia. In questi cinque anni di amministrazione con Attilio Fontana presidente abbiamo fatto tante cose e tante le faremo nei prossimi cinque anni. Sicuramente un risultato importante da ottenere è l'autonomia e a breve vedremo anche un risultato concreto. Infatti il ministro Cagliaroli a Roma in questi giorni sta portando avanti i decreti attuativi e siamo molto ottimisti per portare a casa il risultato. In questi cinque anni abbiamo fatto tante cose concrete, penso ad esempio una tra tutte è il Piano Lombardia che ha visto molti comuni della Lombardia beneficiare di contributi da parte della regione per rimettere in sesto e far ripartire le città dopo la pandemia del Covid. Io sono molto ottimista.